I miei iscritti al mio canale non sono più 93 sono 95 deve essere un regalo di natale adesso vado a vedere chi c'è scritto ma carini però sette visualizzazioni del casino vediamo andiamo qui ma perché tante volte non me lo dà allora dice gli ultimi sette giorni dice nessuno ah no hanno una scritta ranga ganga ganga il cacchino vabbè ammazzo 95 iscritti e so tanti è perché la per il prossimo anno arriveremo a 50.000 forse 95 siamo sulla strada no No, non c'è nessuno che si stavano. Cosa c'è scritto? Cumantino. L'importante è che poi funziona la bottiglia. Ah, fai te, fai te. Non mi dire che abbiamo l'esperienza che non funziona. E' spumantizzato. No, vabbè, che c'entra. Mouichendoum. Vediamo il famoso champagne. Quattiglia piccolissima, prezzo a 22,39 euro. Incredibile. Un quarto di litro. Ecco questo. Però il famoso champagne français. Invece questi sono italiani. Mamma mia. Se trovi qualcosa di... La birra. Mamma mia. E' spumante. Quale? Sì, sì, fontana preta. Ah, sì, spumante. Sì, piuttosto di più. Se pensi che funziona. Lo stappo. Pum. Mamma mia. E' una cosa terribile. Vabbè. I galleghi, questi le prendeva sempre la nonna. Galletta, Murghese, Valestluga. E poi c'è stato il caos. Comunque, la storia è lunga. Che Galletta, Murghese, Valestluga. E poi vuoi dare pubblicità gratis e la media sacra. Che riesce del fallimento. Adesso non si chiama più. Vabbè. Sì, è quello buono. Il pollastrone. Vabbè. Lari, questo è il pollastrone. C'è scritto. Questi sono uguali in giallo, capisci? Sì, sì. E penso di sì. Però questo è il maschio. Si vede dalla clestala. Pollastrone, infatti. Pollastrone. Pollastrone. Pollastro cresciuto. Mamma mia. Mamma mia. Paschino. Però scusa, mamma mia, questo paschino. Speriamo di rompere. Sì? Che c'è? Arrivo. Devo venire. Mamma mia. I fantasmi. Non c'era nessuno ed è caduto. Vabbè. Ok. Eh? Ok. Come rire? Che mano che si brinda col pomeriggio. Il super champagne. Vabbè. G好... Applausi. Applausi. Natale. Not rad לא� le pi pezze. Grazie.